Ciao ragazzi siamo lo stato sociale e volevamo dire che la provincia è importante ma la cultura lo è di più. Noi amiamo e apprezziamo tantissimo l'Emilia Romagna ma soprattutto Budrio perché ci siamo lì vicino, ci siamo lì vicino con il nostro studio di registrazione, ci stanno anche e poi ci sta anche un teatro consulenziale di Budrio che è stato chiuso. Perché l'hanno chiuso? Insomma con motivazioni non esattamente assenti. Le questioni delle agibilità e la sicurezza, ci sono dei lavori da fare e dicono che non ci sono i soldi per fare questi lavori allora noi sosteniamo il crowdfunding che hanno attivato per far sì che venga messo a norma Tutto giusto si sembra. Così chiamassi due da un teatro per una cosa che si può risolvere no? Tutto giusto. Quindi finanziate questa cosa e noi saremmo contenti. Anche loro lo facciamo. Ciao. Ciao Budrio.